Una presentazione Pino Silvestre, ora anche più forte, forti di natura. Pino Silvestre, amico mio. Hello! Good evening, Italy! Hillary e la piccola Chelsea! Monsignor Buttiglione! Buonasera! Eccomi qua! Mara Venier! Buonasera, signor Gabriele Carlucci, di Buona Domenica! Bruno Vespa! Rosanna Cancelieri! Sta arrivando l'amore, l'amore! La straordinaria, Gina Lollobrigida! Tutti i personaggi della TV, e non in un solo programma. Tutta la banda del bagaglino al completo in un nuovo sabato sera. Tutto spumeggiante. Shop-up domani alle 20.40. Supergine! Fino a 186 cavalli. Scocca rinforzata. Airbag di serie. Interni in Alcantara. Dal comfort, allo stile, alla performance. Lancia Delta, sulle strade del gran turismo. Golden lady, when you come out of the blue, golden lady, when you come out of the blue, golden lady, you make me feel so good. You are the one, you make me feel so good. Golden lady, I'm a love. Golden lady, grande amica. C'è una froschezza nuova, nel mondo dietorelle prova, le nuove dietorelle ice. Dietorelle, il gusto che ha. Dietorelle, la dulcezza che dà. Tecnologia tedesca, design originale, comfort esclusivo. Valire 19.261.000. Una Seat Cordoba si fa sempre vedere. La leggerezza equilibrata la trovi dove si esagera con il grande. Le fette biscottate a mulino bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Anche in Venezia. Ehi tu, cosa fai? Dove vai? Non lo sai. Magazine lo sa, corri e prendi. Magazine. Magazine lo sa anche per te. Cosa attendi? E' right? E' slim? E' magazine. E' bellissimo. Guarda le figure. Che mega poster. Magazine è il nuovo giornale di tutte le ragazze. Le figurine dei mitici vanno a ruba, non perderle. Avrà il più completo album dei bellissimi dello spettacolo e della musica. Questa settimana, Bon Jovo, Mark Paul Gosselaar, Dylan Shoe, il nuovo bello di Beautiful. E il mega poster di Richard Grieco. Ragazze, Magazine è il vostro settimanale. Pensate a tutte le ragioni per cui scegliereste una Station Wagon. Adesso pensate a qualcosa di più, qualcosa di molto personale. Poi salite su Nuova Rover Tourer, la Personal Wagon. Nuova Kodak Gold, nata grande. Strana amore. Complotto di famiglia. Strana amore. Complotto di famiglia. Lo sapevo. Lo sapevo. Perché? Perché domenica 22, mi raccomando, alle 20 e 30, canale 5, un'edizione straordinaria di complotto di famiglia. Le vedrete delle bellissime. Vi aspettiamo. Complotto di famiglia. Domenica le 20 e 30, su Canale 5. Chi vi ha dato l'airbag di serie, oggi vi dà anche la sicurezza dell'ABS. In curva, sul bagnato, dove serve il controllo totale, l'ABS è insostituibile. Ford Escort ABS, le più sicure della loro classe. Un esempio? Escort Explorer ABS, con motore bialbero 16 valvole, doppio airbag, ABS elettronico, servo sterzo, 24.970.000 lire, chiavi in mano. Ford Escort ABS. Venite a provarle. Vietro, per piacere, per piacersi. Parada! Dai, facciamo merenda. Oh no, una merenda così ti fa passare la voglia. Peccato che i ragazzi saltino una merenda, hanno così bisogno di qualcosa di sostanzioso. Tu mamma sai che dietro il gusto di Kinder Delice c'è una speciale ricetta Kinder che la rende nutriente di latte e di cacao. Kinder Delice, tanto gusto in più per una sana merenda. E Kinder Delice ti offre i meravigliosi regali, regalissimi 95. Potresti aprirmela? Ma che aspirapolvere è? Siemens. Ah, Siemens. Sì che Siemens. Quando pulivo con il solito detergente credevo di essere sicura del risultato. Grazie amore. Ma rimanevano i batteri. Oggi c'è Ajax Gel 2 in 1. Ajax Gel è un detergente molto sgrassante, unito alla candeggina, per igienizzare tutto e avere un pulito perfetto in un solo gesto. Con Ajax Gel 2 in 1, oggi anche al limone, la mia casa è splendida tutti i giorni e senza batteri. Così mi sento sicura. Ajax Gel 2 in 1, pulito profondo e igienizzato. In un solo gesto. Mi piace il fai da te, ma non le mani secche e irritate. Io so come difenderle. Con nuovo Infasil Fluido Idratante Mani e Unghie. Test clinici dimostrano che è ipoallergenico e la sua formula con provitamina aiuta a rinforzare le difese naturali della pelle, proteggendola dalle aggressioni. E le mie mani non sono mai state così sane, elastiche, morbide. Difese più forti, mani più protette. Infasil Fluido Mani e Unghie. Anche corpo e molti uso. Mammina, stavolta è andata bene. È pulita. Adesso uso Dixan. E perché non l'hai fatto prima? È per risparmiare. Ma adesso che c'è la ricarica, se non l'usassi sarei proprio una... Come mammina. Perdonala. Dixan, campione di risparmio. Dietorelle, il gusto che ha, dietorelle, la dolcezza che dà. Vorrei un mondo pieno di colore, vorrei un mondo ricco di sapore. Sciogli quel gusto molto più vero con amore. Scegli quel sapore mille volte più sincero. Dietorelle, il gusto che ha, dietorelle, la dolcezza che dà. Se lei ti prende e tu la scarti, lei si scioglia le tue voglie e mille gusti libertà. La dolcezza è già qua. Dietorelle. Pensate a tutte le ragioni per cui scegliereste una Station Wagon. Adesso pensate a qualcosa di più, qualcosa di molto personale. Poi salite su Nuova Rover Tourer, la Personal Wagon. Entro gennaio ricordatevi di pagare il canone della Rai. Mentre lo fate, non dimenticate che Canale 5, Italia 1 e Rete 4 non vi costano nulla, grazie alla pubblicità. Lei ha idea di cosa vuol dire vivere l'oscurità? Le vostre bambine sono affette da una forma molto grave di XB. La luce del sole potrebbe ucciderle. Ehi Harrison, due vampiri non vi fanno uscire solo di notte. Le nostre bambine sono molto malate, non è colpa nostra né loro. Sono solo due bambine un po' speciali, che chiedono amore e protezione esattamente come la nostra. Quando hai bisogno di un buon caffè, ma il caffè non c'è. Pocket Coffee, la carica del caffè più l'energia del cioccolato. Sempre con te, Pocket Coffee Ferrero. Anno nuovo, Y10 nuova. Nuovi i colori, nuovi gli interni. E poi, fino al 31 gennaio, Y10 vi offre un risparmio di un milione e mezzo. E già oggi, la certezza di un valore garantito per scegliere entro due anni una nuova lancia. Nuova Y10. Il suo valore è un punto fermo. Questa è la storiella del grissino innamorato. Oh, sapete perché Riomare è il tonno più amato dalle famiglie italiane? Perché è compatto, rosa, a trancio intero. E poi mi è d'accordo con la pasta, la pizza, con tutto. Oh, mi sa che tocca a me. Tonno Riomare, così tenero che si taglia con un grissino. Resta qui e spara su qualunque cosa, vedi venire giù da quella rampa. No! Stargate. Si vede che sei una donna sensibile, te lo si legge in viso. Eclamate di Fass. Un colorito luminoso e vellutato, anche per la pelle sensibile. Eclamate di Fass. Il fondotinta a lunga tenuta. Lascia respirare la pelle e la rispetta perché è ipoallergenico. Fass. Il piacere della bellezza sicura. Tocca. Touch. Touching. Studio Line inventa. Touching. Gel. Spuma. Sprite. Gel. Fissa. Tocca. Vai. Non incolla, sai. Spuma. Volume come vuoi. Crea libertà. Usa le dita. Sprite. A nuovo tuo. Touching. Fissa mosso. Ti gira per la testa. Scolpeci i tuoi capelli come vuoi tu. Nuovo. Touching. Studio Line. Potresti aprirmela? Ma che aspirapolvere è? Siemens. Ah, Siemens. Sì che Siemens. Kinder Fett al Latte. È la merenda con tutta la freschezza del banco frigo. Ed è fatta con tanto latte. L'alimento più completo. Che fame! Addio! C'è anche per noi? C'è per tutti. Kinder Fett al Latte. Quella tempio che completa la merenda. sul gusto di Trident ci puoi sempre contare. Trident. Chewing gum senza zucchero. Quando il gusto è tutto. Ancora non ci sia. Muoviti. Prova a andare più a destra. La nuova Opel Astra Station Wagon è così bella. Ancora di più. Che tutto il resto passa in secondo piano. Perfetto. Sei bellissimo. E ha motori 16 valvole con prestazioni così sorprendenti che qualcuno resterà indietro. Grande tecnologia. E massima sicurezza. Nuova Opel Astra Station Wagon con un'auto così. La passione scatta subito. Nuova Kodak Gold nata grande. Canale 5 Una nuova grande storia per la televisione. Dall'India all'America tra Oriente e Occidente il respiro delle grandi produzioni e l'affascinante storia di Meshwa la figlia del Marajah. C'è un altro uomo nella mia vita, padre. Nel cuore di due uomini due civiltà nel sangue. Ma il tuo sangue è anche indiano, figlia mia. Non lo dimenticare mai. Hunter Tyro Kabir Bedi Bruce Boxleitner Bart Young La figlia del Marajah la figlia del Marajah prossimamente su Canale 5. Mon Cherie è come la felicità. Dura un attimo ma è così intenso. Ha un gusto così deciso. Io ci sento il fuoco dentro. In Mon Cherie ci sono tanti piaceri. Il fresco, il forte, il cioccolato. Mon Cherie tanti piaceri in uno. Mitsubishi Pajero per passione. Mitsubishi Space Bacon per amore. Mitsubishi Space Runner per piacere. Per la mia pelle ho scelto Neutromed Detergente Solido. Neutromed PH55 Triple Action rispetta, protegge, idrata. Più valore alla tua pelle. Il frutto della tua giornata? Si vede dalla frutta del mattino. Frutta sfoglia. La brioche con frutta. Chi mangia sano trova la natura. Anche a Trento. Scopri nuove tenerezze nel mondo di Netorelle quelle delle nuove profi gusto yogurt. Netorelle il gusto che ha di Netorelle e la dulcezza che dà. Potresti aprirmela? Ma che aspirapolvere è? Siemens. Ah, Siemens. Sì che Siemens. Quel cavallo aveva bisogno di noi. Decidiamo di seguirlo. Il suo cavallino era in pericolo. non c'era tempo da perdere. Non c'eravamo mai sentiti così uniti. Cose uniche, vere, come Amaro Montenegro. Amaro Montenegro. Sapore vero. più gusto di borghi, più gusto di borghi, signora, la macchina è pronta. la macchina è pronta quando desidera. Grazie, Ambrogio, ma prima avrei un leggero langurino. Vado in cucina a prenderle qualcosa? No, la mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono, vero, signora? Sì, di un Ferrero Rocher. Chissà come ti vengono certe buone idee. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Fino a 186 cavalli, scocca rinforzata, airbag di serie, interni in Alcantara, dal comfort allo stile alla performance. Lancia Delta sulle strade del gran turismo. Robert De Niro e James Conway. Semplicemente Jimmy. Ammazzare, non gli faceva né caldo né freddo. Gio Pesci e Tommy. Sei forte, Tommy! Regliotta, Harry. Sparare alla gente era normale. Perché a nessuno gli saltasse in testa di sgarrare. Ma a volte anche chi non aveva sgarrato veniva fatto fuori. In prima TV per i filmissimi. Quei bravi ragazzi un capolavoro di Martin Scorsese. Nedi 20 e 40, canale 5. Il guai Hollywood è che tutti vogliono fare cinema. Ehi, volete fare un film? Sì! Avete proprio quello che serve. Stop! Facciamo i primi piani ora! Con le attrici vere. Dari a quelle due la 106. Preferisco morire. No! Bejoo 106 Il tuo modo di essere da 14 milioni e 500 mila lire. Se dico Nutella, lei cosa dice? Ah, Nutella. Era il compleanno di Giorgio e... e io ho avuto un'idea fantastica. Un Nutella a parte. Nutella è così. Sempre un po' speciale. Che mondo sarebbe senza Nutella? più gusto di burghì, nessuno, nessuno ti dà. Volevate disegnare qualcosa? È un regalo Max Collection IP. Vieni a prendermi all'IP. Su tutto il nord Italia situazione invariata. Trenta metri di visibilità sulla Torino-Trieste. Chiusi gli aeroporti di Milano-Linate e Torino-Caselle. Onda 10. A causa di un incidente è bloccata la viabilità sulla A1 l'autostrada del sole nel tratto compreso tra Barberino e il Ronco-Vilaccio per le auto che viaggiano in direzione di Bologna. Sono 8 km di coda che si sono già formati sul posto. Altri problemi... Alla stalla ti aspettano grandi sconti del 35 e 50% su tutto l'abbigliamento invernale. Saldi di gran moda per tutta la famiglia per dare colore e calore alla stagione più fredda. Stalla ogni giorno di più. Con il trasciutto cotto Rovagnati c'è sempre un nido per te. In un nido che ci trovi? In un nido puoi trovare le sorprese per giocare. Con un nido che ci fai? Incastrando lo puoi fare tutto quello che ti pare e in cucina può servire. Incastrando costruire e se vuoi ci metti viti pinzi lacchiere o bottoni. Ma in un nido che ci trovi? In un nido puoi trovare tante idee per chi ti pare. Con un nido che ci fai? Ci fa il ghiaccio se ti va e incastrando e incastrando ogni cosa a conservare. In un nido che ci trovi? Gantenati puoi trovare. Gantenati? Sì! Col prosciutto Rovagnati! Amici della natura vi ricordo che anche quest'anno Golia Bianca rinnova il suo impegno a favore degli orsi bianchi. In questi anni Golia Bianca e il WWF hanno fatto molto per proteggere l'Artico ma con il vostro aiuto possiamo fare ancora di più. È facile basta scegliere Golia Bianca il tenero confetto ripieno di freschezza. Bastano pochi secondi per passare da 0 a 100 ma provate senza fretta il piacere di guidare la nuova Audi A4 il design la meccanica la sicurezza vi sentirete in anticipo anche quando ritardate nuova Audi A4 la velocità senza la fretta a difendere la mia gli amica la mia a difendere l'istats e la mia lecce a difendere la mia l'ispe 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 Tu ma come sei cresciuto? Insomma, arrivo... Ce l'hai la ragazza! Arrivo subito? Quando è il momento di darci un taglio? Twix Goloso caramello e cioccolato Più croccante e leggero biscotto Un Twix Tesoro! Dopo l'altro Twix, un taglio ci dà Per trovare in una goccia Un mare di spazio Ci voleva Masta La nuova Lantis di Masta Masta Ogni macchina, un'idea Sapete perché copro la carne alla standa? Ma per questo! Con Natura Più sono sicura che l'animale è giovane E arriva ad allevamenti selezionati e controllati Guardate che resa! E che tenerezza! Per me Natura Più è la migliore E poi alla standa ci sono più di 3500 prodotti di marca Ogni giorno è un'offerta speciale Conviene andare alla standa? Fidatevi di me! Ogni giorno di più Se hai l'asciutto di Pampers Aggiungi l'asciutto di Pampers Hai il nuovo doppio pacco I pannolini sono il doppio Il prezzo no Perché questi non li paghi L'asciutto di Pampers da oggi costa meno Con il nuovo doppio pacco È un picchio Sta costruendo il nido e avvisa tutti che questo è il suo territorio Ma non li fa male? No, perché ha una specie di ammortizzatore nella testa Tu che sei tutto! Come faccio con l'influenza che mi sta arrivando? Prendi Aspro Perché proprio Aspro? Perché domani andiamo lassù Ai primi sintomi di influenza Febbre e mal di testa Aspro C500 Rapido ed efficace Con Aspro Passa È un medicinale che può avere controindicazioni ed effetti collaterali Per leggere attentamente il foglio illustrativo Che denti bianchi! Come fai? E sono sani? È il dentifricio con floro e bicarbonato E si sente Allora combatte placca e caro Dai, me lo presti Colgate backing soda La differenza è che si vede e si sente Bastava pensarci Ma dai, davvero? E poi cosa ti ha detto? Ma no, ti ha chiamato signorina Fantastico Lo vedi che i miei consigli funzionano? Guarda che io lo sapevo È tutta una questione di pelle Ma certo signorina Ma sì che c'è tutta una linea cupra E di solo provare Linea cupra Principi naturali Contro i segni del tempo E i risultati si vedono Lunedì 23 con la stampa Il nuovo supplemento Tutto Soldi E la sua pratica agenda in regalo Tutto Soldi Il modo più breve Per saperla lunga Fino a 186 cavalli Scocca rinforzata Airbag di serie Interni in Alcantara Dal comfort Allo stile Alla performance Lancia Delta Sulle strade del Gran Turismo Serve le plus bon Che c'è sta in giro la signora? No Ci serve niente Va, te ne va Buongiorno Buongiorno signora Serve il parmacotto La vaschetta Parmella Le plus bon Parmacotto presenta Le plus bon Il prosciutto arrosto La bontà di un prosciutto superiore La ricchezza di un grande arrosto Il prosciutto è buon Quando arrosto è le plus bon E va bene? E vai E vai